Ciao belli, ciao bello, lo scivichi, lo scivichi, ciao ciao, ciao ciao Allora, stasera vi giro questo video perché vi volevo far vedere comunque le labbra, stasera so una figata e so finalmente come le volevo, eccole qua Allora, considerate comunque c'ho la... c'ho il rossetto eh, con il... senza rossetto si vedono molto meno però so felice, mi garbano un sacco e così va bene, ecco se no in un altro modo c'erano soldi buttati e allora ci terrei siccome per l'appunto ci tenevo, scusate ci tengo perché... perché comunque così mi garba la bestia e siccome ieri vi ho fatto il video e tutte mi avete detto che non si vedeva una benedetta sera oggi ve l'ho detto io, porca troia ho detto glielo faccio vedere e tanto ho provato la palette e niente, ho detto gli faccio il trucco allora, siccome... niente poi ora aspetto un po' perché comunque l'ho fatta ieri questa parte è ancora dura quindi insomma aspetto un po' a parlarvene perché comunque lui mi aveva detto che la... comunque ecco, la mia misura dovrebbe essere questa dovrebbe rimanere questa fatevi conto che è tutto il giorno che mi do lip su lip cioè potete capire, è tutto il giorno che mi sdraio lip sulle labbra perché c'è troppo una figata a parte sto stramorbide e poi proprio questa parte di sopra che mi si vede e riesco a fare così cioè è una cosa che voi non potete capire cosa voglia dire per me che non ho mai avuto labbra allora, detto questo fra qualche giorno vi faccio un video comunque dove ve ne parlo, ok? allora, sugli occhi ho provato questa palette la Obsession ed è veramente veramente bella i colori sono pazzeschi vediamo se... voglio fare una cosa veloce perché vi voglio fare il top del mese bella, 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 bella bella ce ne piace, bella molto poi, invece, questa popò di luminescenza invece che vedete è la Chocolate ma ya com'è, ok? non sono abbastanza illuminata e quindi vediamo di illuminante allora, cominciamo dunque, vi voglio fare appunto promossi del periodo visto che oramai siamo ai inizi novembre vi ho fatto quello lì, Camilla, insomma, le meraviglie del mese ho visto che, insomma, fatemi sapere se vi può interessare mi voglio sbrigare perché vi voglio fare un altro video che so che vi interesserà pazzescamente quindi cominciamo cioè, io non posso parlare, mi sento veramente cioè, guardare, non avete idea allora, vi parlerò sia di prodotti make-up che prodotti viso si prodotti make-up che prodotti, insomma, per la cura del viso ok? madonna, me l'ho sistemata pure i capelli per benino vabbè aspettate un po', vediamo se la metto più lontana ok, ora si allora come prodotti per la cura del viso partiamo con questo qui è il gel struccante che mi feci vedere l'altra volta della Diebora questo qui l'ho pagato tipo 8 euro e l'ho preso al caddi, mi sembra è spettacolare allora, considerate che nell'occhi vi leva qualsiasi cosa cioè, mascara waterproof tutto quello che avete nell'occhi lui ve lo toglie fa qualche fa qualche difficoltà però con le labbra se ci avete dei rossetti matte comunque sono belli gadolli fa qualche difficoltà però ci passate poi un dischetto con io ci metto l'olio cioè, no, non mi posso vedere vi giuro, io non sono abituata anche perché poi più grandi di così non mi ci vedrei ed è perfetto mi piace un sacco per 8 euro è una grande figata poi, veniamo a questo tonico delicato acqua di rose questo qui l'ho preso al caddi con 1 euro e 90 ed è già a metà mi piace tantissimo vi toglie tutti i residui di trucco è un tonico come si deve ottimo mi piace, mi piace, mi piace poi ripeto, per 1 euro e 90 è una figata questa qui invece è una mousse doccia io l'ho scoperta adesso non sapevo cioè, sapevo della sua esistenza l'avevo visto in qualche video di qualche ragazza però non l'avevo mai acquistata io ce ne sono due tipi cioè, quella alla rosa e quella all'argan ti pareva che io prendevo quella mi devo scurire le labbra perché si devono vedere di più naturalmente nella realtà si vedono di più no, voi non avete idea cosa vuol dire per me stendere sulle labbra un rossetto con delle labbra così cioè, voi non potete capire davvero cioè, mi ci diverto proprio comunque allora, io ho scelto naturalmente questo perché come sapete io adoro l'argan e poi non faccio non posso fare a meno di guardarmi le labbra cioè, io ora vi sto parlando di prodotti ma io non posso fare a meno di guardarmi le labbra cioè, vabbè e lo adoro me lo do sotto la doccia come appunto sapone cercherò di non guardarmi e lo uso per farmi appunto i peli della nana e delle gambe è perfetto mi porta via tutti i peli per bene mi piace, mi piace un sacco comunque sappiate che ho questa famosa paresi e questa parte più alta poi sempre come prodotti viso vi strapromuovo alla grande questi due dell'Iver Rocher questo è il siero e questa è la crema giorno allora, inizialmente questo è un siero essenza e texture di nuova generazione applicare qualche goccia riparazione più antinquinamento allora, tendenzialmente all'inizio me lo davo soltanto il giorno però, siccome ho visto che comunque ci sono stati dei cambiamenti questi prodotti sono davvero ottimi lo vedo proprio che la differenza della pelle e del viso sta molto molto meglio ho deciso poi di utilizzarla anche la sera perché io per la sera utilizzavo la Nivea che mi aveva regalata Lynn e vi posso garantire comunque un cesso mi davo quello lì il siero della L'Oreal e ci mettevo questo no bimbe a questo punto meglio comunque metto il siero tutto insieme quello della L'Oreal lo utilizzerò poi perché comunque per vedere comunque un bel risultato ci deve essere comunque un utilizzo quindi e come ultima cosa della skin care è questa cioè questa è la maschera la maschera della vita questa è la maschera della Yes To tutte mi avete chiesto tutte mi avete chiesto dove l'ho presa io l'ho presa alla OVS volevo andare oggi a prendere anche quella al caffè che praticamente è idratante super idratante questa è sbiancante comunque serve per anche questo movimento che faccio così quando parlo non lo faccio io cioè sono le labbra che essendo carnose mi vanno in avanti allora praticamente questa qui c'è anche questa è tipo sbiancante comunque così serve comunque per far sì che la pelle del viso sia più compatta io la uso più di 5 minuti e io vi giuro che da quando uso questa con questo ho la pelle perfetta partiamo dal presupposto che ultimamente non ho grandi problemi di pelle però bimbe spaziale e oggi volevo prendere quella al caffè però non l'ho presa perché comunque c'ho anche quella della Lisvecca c'ho un'altra che praticamente è in polvere all'argilla le voglio prima finire perché cioè è inutile che tanto mi riempa di maschere come al solito per poi fare cosa quindi le terminerò vediamo adesso ai prodotti make up allora di pennelli tanto c'ho solo questo quindi vi promuovo solo questo allora questo è il pennello della Wet n Wild che ho comprato l'altro giorno voi ve l'ho fatto vedere l'altra volta io avevo questo qui della Real Technique come per mettere l'illuminante e questo è quello della Wet n Wild cioè voi non avete idea di quanto è eccezionale questo cazzo di pennello praticamente essendo compatto voi prendete il prodotto e lui ve lo stand proprio in maniera compatta si vede tantissimo ed è fenomenale mi piace un sacco ora certo ripeto dipende sempre da cosa vi date ora per esempio sono bella luminosa dalla camera si vede meno però adesso voglio aggiungere questa guardate a parte questo illuminante fa panico paura ok però è un pennello che per l'illuminante è spettacolare veramente 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 il top del top c'era anche quello da contouring un po' più a goccia ok che l'ha preso Franci la mia Franci Franci Weasel e lei l'ha preso io non ero oh maiala quanto si vede ma che siete matti io non ero molto convinta di prenderlo guardate quanto luccico e quindi non l'ho preso però comunque ce l'hanno sempre quindi vediamo un attimino ora per 6 euro secondo me ne vale la pena poi veniamo al fondotinta devo dire invece che ultimamente mi sto ritrovando allora questo è il primer della Debalm a me mi sembrava che inizialmente io mi c'era trovata tanto bene l'altro giorno me lo sono dato dandomi poi il Lancome sopra a questo e il Lancome di solito mi dura tutta la giornata tutta con questo qui non mi è durato un cazzo fatemi sapere se può essere che magari è scaduto e di un sequenza non fa più il suo lavoro ok allora come fondotinta vi strapromuovo quello della pupa è fantastico è stratosferio 15 euro di fondotinta quindi c'è non è che costa una cazzata però è fantastico è veramente veramente il top ha una coprenza bestiale ha una coprenza esagerata e nonostante questo non vi fa un cazzo il mascherone è eccezionale veramente veramente mi piace un tutto io non riesco a non guardarmi ve lo giuro sappiate che era veramente a parte l'ancome comunque roba di un certo tipo era tanto e non trovavo un fondo così di correttori invece vi stra vi strapromuovo il camouflage della wycon questo è quello che ho preso l'altra volta 9 euro e l'ultima collezione è fantastico è appunto un camouflage di conseguenza voi lo stendete io è quello che ho su adesso io addirittura ho preso un pici quindi come colorazione non c'è però poi una volta e lo mettete sotto vi fa una coprenza paurosa andate a metterlo sopra vi mettete sopra il vostro fondotinta e non si vede niente camouflage nel senso che voi andate a picchiettarlo e vi fa proprio questo vi lascia questa polvere praticamente invece del correttore vi lascia la polvere ed è eccezionale poi passiamo al blush come blush vi strapromuovo questo della Freedom sapete benissimo io ultimamente non uso blush perché a me non lo so non mi ci vedo molto con questi rosati sulle guance ultimamente mi piace molto di più mettermi una terra che è marrone e che mi dà comunque il marrone invece del rosa questo qui è della Freedom me l'ha regalato Noemi e ce l'ho anche adesso ed è molto 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 leggero mi piace tantissimo a parte un odore pazzesco lo adoro e comunque mi dà questo leggero ora ripeto voi siete in camera vedete pochissimo rispetto alla realtà però è eccezionale a me piace vi strapromuovo come contouring l'ombretto della Kiko che è lo 04 è un ombretto normalissimo della Kiko freddo io oramai ci ho fatto il buco lo vedete ed è eccezionale lo adoro se addirittura io uso questo pennello qui qualche volta e faccio questo gioco vedete e qui c'è venuto il coso solo proprio qui nell'angolo ok questa cosa vi faccio anche perché ci ho già passato appunto con il pennello e mi da questo effetto lo amo mi piace tantissimo è freddo vi dura tutto il giorno perché poi voi lo date come contouring vi dura tutto il santo giorno e io lo amo dico solo le stesse cose lo amo lo adoro è bellissimo fa care poi il fondo della pupa l'ho detto allora veniamo l'illuminanti ve ne dovrei promuovere una saccata una pallata ve ne dovrei promuovere però diciamo che invece di promuovervene una pallata vi promuovo quei due che secondo me sono il top anche questo ve lo potrei promuovere però questi sono più gadolli e quindi vi promuovo questi allora lo sapete cosa mi piace a me dell'illuminante cioè a me l'illuminante deve essere bombolone si deve vedere allora questo è quello che avevo nel video scorso l'ultimo video non mi ricordo che tutte mi avete detto è un illuminante pazzesco è questo è della Wette Wild è l'ultima collezione e ha queste cangianze verdi e ha una cavolo di pigmentazione cioè è olografico praticamente vedete ce l'ho a malapena drusciato guardate se ce lo druscio di più ok e poi la paletta della Makeup Revolution questa qui la Rose Gold non fanno testo cioè a parte questo è burro guardate quanto è burro ok guardate è burro vedete è una cosa allucinante io lo adoro cioè ne ho mille lo sapete quanti illuminanti ho io addirittura ho preso questa qui a parte questa l'ho presa da pochissimo quindi comunque l'olografica della Lotti però si è olografica quindi spacca però ripeto che questi due cioè vi lasciano basite ok e ora veniamo ai lip e poi abbiamo finito come lip non posso non promuovervi la we make up allora voi sapete benissimo la we make up l'ho presa adesso quindi da neanche una settimana forse una settimana e mezzo però devo dire che l'ho provato e so spettacolari reggono tantissimo quello rosa l'ho provato molto meno questo marrone che è il 10 ecco non riesco a non darmeli sappiatelo e ci darò 4 me ne darò 4 più da qui alla fine del video mi darò 4 lip più sappiate questo allora il rosa l'ho provato molto molto meno rispetto a questo io ho l'8 e il 10 è il rosa fantastici hanno una buonissima durata allora io non so gli ombretti anzi ho visto una ragazza su instagram che è bravissima a fare i trucchi che dice si è trovata malissimo con gli ombretti della we make up perché non riusciva a gestirli mi piaceva di più quello di prima e non riuscendo a gestirli non gli piacevano devo dire che invece questi sono ottimi hanno un'ottima durata e non posso non promuovervi i lip della Kiko allora questa collezione della Kiko è la penultima io ce n'ho 4 se non mi sbaglio erano 5 e lo stesso questi sono favolosi hanno una durata pazzesca hanno dei colori bellissimi ora mi ridò anche questo sopra voi ci fate aso guardate questo ma poi queste labbra sono morbide ho 4 strati di roba sulle labbra anche di più che fregnata assurda comunque sono straduratori li adoro fatevi conto che sulle labbra non li sentite allora quelli della we make up hanno una consistenza leggermente più forte più più sostanziosa questi sono totalmente inesistenti avete un velluto sulle labbra sono fantastici poi hanno dei bellissimi colori a parte questo è pazzesco che lo vedete proprio come è ora non è perché sotto c'avevo qualcosa questo marroncione è scuro questo è quello che mi avete detto mi stava stra bene è un colore molto acceso che vi sta benissimo anche struccate questo è il classico zucca che ho amato alla follia per tutto tutto il mese e questo invece è un nude che somiglia molto allo zucca però è molto più leggero fantastico basta bimbe ho finito così vi faccio il video dopo spero che di avervi dato un po' di consigli e spero di avervi tenuto un po' di compagnia vi mando un bacio grande io e le mie super labbra vi salutiamo ciao siete il mio grande sostegno grazie a tutti